Centro Ufficio, Viale Teseo Tesei, a Porto Ferraio. Happy Christmas, Bianconatale, Jingle Bell Rock, sono solo alcuni dei brani eseguiti allo spettacolo natalizio andato in scena lo scorso weekend a Porto Azzurro, un concerto che ha visto alternarsi sul parco del Teatrino delle Suore, tanti cantanti longonesi sia bambini che adulti, tutti uniti dalla passione per la musica e dalla voglia di regalare al paese un piacevole momento per festeggiare insieme il Natale. E lo hanno fatto interpretando i classici della tradizione natalizia insieme ad altri grandi brani del repertorio italiano e internazionale, dai numerosi applausi e complimenti del pubblico in sala, sia alla prima di sabato che alla replica della domenica, i protagonisti hanno pienamente raggiunto l'obiettivo. Ed è un successo che vale doppio anche per l'importante iniziativa promossa dal concerto, ossia quella di finanziare con il ricavato dei biglietti un progetto musicale per i bambini del paese. Alla fine dello spettacolo anche il sindaco Luca Simoni si è complimentato con i partecipanti e ha ringraziato Michela Zallo per aver ideato e curato l'evento. I've had the day, so let's start keeping it. There's a choice in making, we stand in our world life.